No, ancora no. Allora, siamo arrivati alla fine finalmente, ce l'abbiamo fatta. Avete visto che alla fine tutti insieme ce l'abbiamo fatta a fare questo paio, eh? Bravi tutti! Bravi tutti, veramente. Dal primo all'ultimo, bravi. Un ringraziamento profondo a tutti i comuni che hanno partecipato, ai loro sindaci, perché ci hanno appoggiato fin dal primo giorno in questa manifestazione. Quindi un grazie di cuore a tutti i sindaci dei sei paesi. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i referenti del paese che hanno costruito veramente delle bellissime e fortissime storie. E ovviamente a tutti voi giocatori che avete partecipato. Un applauso e un ringraziamento profondo. Ringrazio i miei compagni di viaggio, Valentina Littor, il salitato del paio. E adesso incominciamo la premiazione del mini-paglio. Quindi per i bambini. Allora, mini-paglio al sesto posto si classifica con 150 punti Locate Varesino. Bravi ragazzi, complimenti. Al quinto posto, con 165 punti, i bambini di Gornate. Al quinto posto, con 215 punti, i bambini di Abbiate. Al terzo posto, con 230 punti, i bambini di Castelseprio. E adesso il primo posto. Per il primo posto c'è una parità tra i bambini di Lonate Cettino e i bambini di Venegono. Ma, ma, con quattro giochi vinti, vince il mini-paglio Lonate Cettino. Un bambino di Lonate Cettino qua. Uno. 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 Grazie a tutti. 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 Al quarto posto con 580 punti. Abbiate... Grazie a tutti. Al quarto posto con 615 punti... Nonate Cepini! Che dista solo 20 punti alla seconda. E adesso... E adesso... 5 punti di vantaggio... Si aggiudica la prima edizione del Pagno del Seprio... Grazie a tutti. 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 Abbroso! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. è là, è là scusate, facciamo un bell'applauso a Marco che si è inventata sta follia dai Marco e tutti quelli che c'erano dietro a lui ci vediamo l'anno prossimo buonanotte a tutti e grazie buonanotte a tutti per cinque punti buonanotte a tutti 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 buonanotte a tutti